Non avete idea di quanto è stato faticoso arrivare a preparare questo video, dato che tra l'ultimo video e questo video praticamente non siamo riusciti a salvare perché c'è stato un bug nel gioco Esatto E abbiamo dovuto rifare tutta la cappa, all'incirca un'ora e mezzo di gameplay, dato che avevamo pure farmato un bel po' E quindi è stato abbastanza faticoso da portare questo video oggi, però Però Eccoci qua Abbiamo una cosa bellissima, Steph Si vede lì dietro di Fere, però io vorrei un attimino a parlare di altre cose e poi parlarne meglio Ma dai E' una roba importante, voglio lasciare un po' di curiosità ai consumini Ok, vai Prima di tutto ad esempio parliamo del pesce gigante con i mano No? Steph, li abbiamo fatti vedere mille volte i pesci cucinati enormi Ma io sono sempre felice di mangiare pesci enormi Ma non stai mangiando un pesce, hai mangiato un frutto poi Cioè che stai a dire? Abbiamo appena finito di esplorare quest'isola E io mi sono riuscito a craftare una cosa davvero interessante che si è rotta e quindi non la posso far vedere Sono riuscito a farmi la bombola, che non è un gran che raga, per andare sott'acqua per più tempo Per prendere un sacco di materiali che servivano a fare per tantissime cose Si rompe abbastanza facilmente, dà un po' di ossigeno in più ma non troppo Quindi un pochettino mi ha deluso Quindi è uno schifo Esatto, quindi è uno schifo Il protagonista di questo video è sta roba qui Vi spieghiamo che cos'è Questo qua è il ricevitore combinato alla batteria Combinato all'antenna Che ci dovrebbe permettere di ricevere dei segnali Io adesso non so se segnali di posti che ci salvano Se segnali di isole abbandonate Se segnali di alieni Se segnali di pesciolino Di pasqualino Basta Steph Dicevo, non l'abbiamo ancora provato Quindi non abbiamo idea di che cosa andremo a captare Oltretutto ci è voluto un botto per farlo E ho notato Steph che la batteria è ad utilizzo Quindi dopo un po' si consuma e va pure rifatta Come se non basta Richiede un'altitudine maggiore Allora Steph Guardami in faccia Avvicinati Avvicinati, di più, di più, di più Siamo in mare Dove la trovi l'altitudine? Me lo spieghi? Penso che intenda che tu devi farti verso l'alto Sì Vabbè, allora Allora, calmiamoci È tutto fatto Quindi basta che io faccio rimuovi E possiamo recuperare tutto Ok, mi è ridato tutto quanto Adesso costruiamo una bella rampa verso l'alto Sì, cioè non è possibile sta roba Che non funziona mai nulla Potresti usare addirittura la rampa che abbiamo fatto per quell'isola E lì sopra mettere l'antenna e tutto Beh, in effetti Perché sprecare altra legna? No, almeno andiamo a risparmio Perché sprecare, infatti, altra legna? Comunque, come vedete, qua abbiamo fatto i campetti con gli ananas bellini Le palmette Così abbiamo iniziato a ordinare Dato che ci avete chiesto tantissimo E adesso andrà a ordinato un pochettino meglio Anche questa zona Ma secondo me c'è bisogno di allargare un altro posto Soprattutto poi per farci il piano superiore Che costa davvero, davvero tanto, raga La cosa terribile è che io qui, attaccato alla scala Ok Posso costruire una piattaforma Cioè un pavimento Non un affondamento Ma un pavimento Ma me ne fa fuori uno contato Cioè per l'antenna ci vuole spazio Quindi non so se riesco adesso ad allargare Perché ha bisogno dei pilastri Eh, lo so Ma a me serve un po' di spazietto in più Non posso attaccare un pezzo di tetto, no? Devo rifare tutto da giù Fere, non mi sembri felice Non mi sembra felice Allora Ok, allora vedete Detriti comunque venendo dall'alto Ho notato che sono verso lì, raga Dimmi, Fere Io ci faccio stare tutto qua Non ci riesci Zitto È impossibile Ok Fere Niente impossibile Quando Fere si mette in testa Che deve fare la tirchia, Stef Ecco fatto C'è scritto troppo vicino Licevitore Fere Io spacco il gioco Mi sa che qualcuno ha pensato Al tuo modo di fregare il gioco E ti hanno fregato a te, cara mia Mi sa, mi sa Che sei stata fregata Da che mondo è mondo, Stef? Ti ricordi le tv? Quelle Quelle grosse, nere Che avevamo da bambini Non ce le ho mai avute Quelle tv enormi Ok, sì, vabbè, ho capito Non mi viene il nome Ma quelle tv enormi Quelle antiche, ok? Quando non funzionavano Tu più avvicinavi l'antenna E più funzionava Più prendeva meglio il segnale Quindi perché accidenti Devo mettere l'antenna Dall'altra parte del mondo, Stef? Per aggiustarla Si davano dei pugni Quindi non credo Che sia una cosa saggia Vabbè, inizio a distruggere Sta rampa Ne facciamo un'altra Ci tocca fare Dei pilastri, Stef Fare una mini piattaforma sopra Già Comunque Almeno ho visto Che a quell'altezza Funziona Quindi direi di farlo Abbastanza altino Così non rischiamo E vediamo Lo so che ci costa un botto Io la vela La lascio accesa Sulla direzione giusta, raga Perché così ci muoviamo Più in fretta E raggiungiamo più in fretta Altre isole Perché qua abbiamo bisogno Costantemente La lascio accesa, Stef Che si trovano soltanto Nei fondali marini No, Ferri, devi spegnerla La vela Ho detto La lascio accesa la vela? Sì Io pensavo Se stai dicendo Che tu lasciami Acceda il ricevitore Oggi ne faremo Una giusta Secondo te Ne faremo Una giusta Secondo te Non credo Allora ho cucinato Un sacco di pesciolini Infatti sto morendo di fame Me li vado subito a prendere Io ho il pesciolone gigante Ancora che mi sto mangiando Cucinato sempre da me Molto felicemente Ho scoperto addirittura, Stef Che a te l'ho detto Ma i consolini no Che nella griglia grande L'ultima che abbiamo creato Puoi mettere Fino a tre pesciolini piccoli Quindi in pratica Queste due create qua Non ci servono più a nulla Già, già, già Nel mentre vi faccio Una domanda a consolini Dovete rispondere Nel sondaggio Ed è molto importante Ho letto alcuni chiederci Di non fare questo gioco in live Perché non riescono a seguire Poi a recuperarsi la live Perché non hanno abbastanza tempo Ah, ok Quindi sono curioso di sapere Se preferite le live da 30 minuti In modo tale che Siano tranquillamente recuperabili Direttamente non fare le live O fare le live Lunghe, classiche Da un'oretta Fateci sapere un pochettino Perché ovviamente Vogliamo fare la scelta migliore Quella che preferite voi Siccome vi sto dire Scriverlo nei commenti Quanto meno chiediamo Beh, ci sta In effetti Non è difficile da seguire Perché se in diretta Poi ne facciamo un botto di roba Quindi siamo persone orribili Allora Vabbè, perché ci piaceva troppo il gioco Quindi lo volevo fare anche la Allora Devo fare tre chiodi Fammi pensare Tre chiodi Che mi servono i rottami Questa la voglio Lo mi salta, vero? Ma no Dai, nota bene Allora, rottami Rottami ce ne sono tanti, no? Sì Ok Quanti pilastri pensi di fare, cara? Eeeh Cioè? Quanto mi vuoi rendere povero? Bah, molto poco, Steph Molto poco Cioè, penso di fare un 4x4 Cioè, molto piccola Ok Allora, nel mentre spiamo a fare Ok Facile pescare guardando da l'altra parte, no? Allora Plausibile Mettiamolo da questa parte Ok Ok No, no Volevo mettere dall'altra È sbagliato Io ti ho detto l'altra direzione Sei tu che non mi hai capito È un pesce l'abbiamo preso Ragazzi, è bellissimo pescare così Ci guardiamo a fare Che impazzisce costruendo E noi nel mentre siamo anche utili Siamo utili Perché procuriamo un sacco di cibo Vorrei sapere Se abbiamo un'isola vicino Ma non si vede nulla Vado, Steph Sali Sono troppo vicine le due cose ancora No? No, Steph Sono lontane Vieni Visto Stai calma, sì Guarda dove la metto Aspetta, aspetta, aspetta Fede, la devi lasciare in alto, ovviamente Non è vero Io la metto qua Ho sentito un rumore di Pasqualino? No No, tutto a posto Allora È collegata col filo Altitudine errata È giusto Nella descrizione non c'era scritto Non c'era scritto Che ti farà impazzire Prima di riuscire ad avere il segnale Ma sai quanto ci ho messo a creare tutta sta roba? Cioè Consolini Voi non avete idea dei materiali che servono per fare batteria ricevitore antenna? Cioè ci ho messo più di un'ora a fare sta roba? E tu mi dici che deve stare in alto? Allarghiamo Un altro pilastro Dai, tutto a posto È proprio così Però non ti diceva più che era troppo vicino O forse dice prima l'errore sull'altitudine Ma che ne so, Steph Io allora Per sicurezza Metto magari altri due pilastri E mi allargo molto Che ti devo dire? No, fai prima uno alla volta Tieniti i materiali pronti per farne due Ok Cioè Be wise Sì, ho capito, ho capito Ok Eh Non vedo neanche una barca Secondo me ci Che succede? Mi ha volato un pesce di sotto perché avevo Ma no Attenzione Eh, grazie Allora, sto gioco sta iniziando a farmi arrabbiare, Steph Ok Allora Mettiamo un altro po' di detriti qua Allora, ci siamo Ci sta sprecando tutti malamente Ok Ti prego Poi due pietre qua Va? Sì Eh, ma quindi ora che dice? Ma che ne so, non dice una ceppa Poi attendo Quante antenne ci vogliono, Steph? Scusami Cioè, devo fare tre? Non lo so Devo fare tre, davvero? Secondo me La devi accendere ogni tanto E vedere se rileva del segnale Però mi richiede tre antenne No, secondo me puoi avere un massimo di tre Per avere un segnale più potente No? Anche perché quanto ci costa un'antenna? Vai a controllare i craft e dimmi esattamente Fammi rivedere l'antenna Fammi capire quanto sarebbe grave la situazione nel caso Maledetto Maledetto Vai via Secondo me Pasqualino è vicino a Schiatà, eh Siamo pronti al secondo trofeo finalmente Eh, ho preparato tutto, hai visto? Ho preparato la sua parete Lo so, lo so, lo so, lo so Uh, good news Ho pescato un pesce gatto gigante Ottimo, ottimo Quelli sono buoni, Steph Lo so che sono buoni Teoricamente, raga Anche quando si trovano queste Sorta di scogli che noi dicevamo Ma sono inutili In realtà Quando ci sono questi scogli C'è un fondale marino Dove noi possiamo andare Quindi Altre risorse Altri materiali Altre cose utili Noi non lo sapevamo Perché eravamo scarsini Ma adesso lo sappiamo Allora, Ferre, cosa ti prendo? Eh, detriti? Qualcosa per uccidermi, Steph Perché non ne posso più Beh, ma è già una lancia, Ferre Anche una ascia Cioè, tanti oggetti Ok, ce l'ho fatto Detriti Alghe e rame? Sì Il resto? C'è tipo sabbia e argilla? Ti servono o non ci servono? Guarda, sinceramente la sabbia Ho visto che c'è qualcosina Che dobbiamo ancora prendere con il vetro Che quindi lo devi fare cuocendo la sabbia Però, boh, sono i binocoli È il depuratore migliorato L'argilla non ti serve? No, non mi chiede altro con i mattoni Ok Ok Dai, allora Per ora mi focalizzo soprattutto sui metalli Però sai che faccio? Voglio sbloccarlo Dimmi che fai Il depuratore è bello Ok? Sono bello? No, il depuratore è bello, non tu Grazie Steph, le ho messe le antenne Ma ancora non ricevo segnale Guardate cosa ho scoperto Una terza non la metto Se si va tutto sott'acqua Si può trovare Una cassa Anche sott'acqua E l'ho scoperto grazie al vocale Che mi permette di arrivarci con più facilità Adesso, ad esempio, rischio di morire affogato Però comunque abbiamo preso la cassa Quindi ne vale la pena Ti dicevo Altre antenne, Steph, non le faccio Cioè, troppo spazio Troppo No, tre ne devi fare, Fer Per forza? E beh, adesso due funzionano Ma non hai novità Ma non penso che siano per forza tre Eh, non lo so Te l'ho detto Dobbiamo scoprirlo Cioè, nessuno è arrivato a questo punto Dobbiamo scoprirle noi Queste cose Non so cosa da dirti Utile per localizzare i segnali radio vicini Eh, grazie Ma di altri player? No, è impossibile di altri player No Non si gioca in locale Cioè, anche se giochi in tanti Credo che online puoi comunque giocare Ma anche se giochi in tanti online Comunque se ne è la stessa zattera Vabbè Mettiamo anche la terza antenna Ci sono metalli Vuole che la faccia Dai, perché non ci sono metalli? Cavolo E anch'io la voglio fare E allora non darmi le colpe Non è vero che la voglio fare Io vedo costantemente sott'acqua E affogo Perché non ho una bombola Non ho le pinne Perché Fer non me le prepara Adesso mi faccio le pinne Bravo Sì, basta Fattele Sì, sì, ora le faccio Sono rotto le scatter Finalmente badi a te stesso, Steph Finalmente badi a te stesso Io vado sempre a me stesso, cara Non è vero Sì, assolutamente sì Allora, se non funziona neanche così il ricevitorio Io spacco qualcosa, Steph Ci può stare L'importante è che spacchi qualcosa di tuo E non di mio Cioè, guarda lo schifo che sto facendo Nella nostra zattera Solo per avere stessa antenne No, non guarda meglio Allora, pinne alga Tralcia appiccicoso Le corde ce le facciamo Tralcia appiccicoso 5 Li abbiamo easy peasy Anche se li sto un po' sprecando Devo essere sincero con voi E abbiamo fatto Ok Vetro, perfetto Adesso devo mettere a fare altro rame Ferè Eh Mi vedi con le pinne? No, le devi guardarmi No No Tu ti vedi con le pinne se ti guardi i piedi No Ah, non ci possiamo vedere i piedi Ok Però dice aumenta la velocità sott'acqua Vediamo se vado più veloce Vai più veloce? Bah, sì Ma sinceramente Per quanto costano questi oggetti Si nota troppo poco Steph Steph Ti informo che nel nostro tavolo da ricerca Abbiamo sbloccato tutto Davvero? Sì Finito? Sì, finito Sbloccato tutto quello che c'è da sblocare Bello Vediamo il depuratore Per avere più acqua pulita Eh vabbè ma neanche ci serve No, giusto per curiosità Poi magari non lo faccio in questo momento Però sto curiosa Torniamo su Ah, neanche molto Ah, se è plastica e 4 di vetro Che di sabbia sono pieni Quindi valendo Ok, ok Sono molto deluso Dalle pinne Perché speravo Sì Fossero migliori Sembra che Comunque l'attrezzatura Da subacqua Non è che ti dia tutto questo vantaggio Già Quando poi vai No ma ti ho detto Soprattutto perché comunque non è facile farla Quindi dici Eh no, certo Adesso proprio Divento un delfino E invece Divento più veloce di Pasqualino E invece no E invece no E invece no Poi è sempre buio qua Anche una torcia da subacqua Farebbe comodo eh Non capisco mai Se stavano impatti utili o meno Dimmi cara Ho una richiesta Quando la trovi Mi prendi una vongola gigante? Ah, sì Ok, grazie Ne ho visto anche Prima l'ho vista una Per cosa ti serve? Per fare il nido No, allora no Dai, ti prego Steph Mi voleva ingannare Hai capito? Mi voleva trarre in inganno Mi serve per fare una collana Non ci casco più Ok Mi dispiace Dai Steph, ti prego Ma sai quanto è difficile trovarle? Non ne ho visto neanche una Da quando sono qua Ma non servono ad altro Quindi non le sto neanche sprecando Te l'ho presa Contenta? Moltissimo Allora, scheda elettronica Sono felice Ehm Ok Allora, vediamo un pochettino Se trovo qualcos'altro Ma mi sembra di no Non c'è niente di utile qua sotto Tipo il rame ce n'era pochissimo Sto soltanto sprecando queste pinne Che si consumano abbastanza in fretta Ok, Steph Terza antenna fatta Se così non funziona Sta roba fa schifo Ma hai già messo abbastanza spazio, dici? Boh, secondo me sì Dimmi che va bene No Calma Fai un bel respiro Fai un sorrisino E tutto andrà bene E tutto andrà malino E tutto andrà malino Dai, che cavolo però Adesso sistema anche la terza Continua a fare nessun segnale E Fere Rompe tutto Rompe tutto Ehm Abbiamo finito i chiodi Davvero? Eh sì Servono un botto di chiodi Tra pilastri, antenne Cioè, ma anche i detriti? Eh, no Si fanno quei rotami Eh, quei rotami Ok Non li abbiamo finiti No, 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 no Faccio, faccio Ok, ok Mi hai fatto venire un infarto Ci mancava solo quello Eh, mi sono dimenticato Tre di questi Servono Un minerale di questo Anche se oddio Pensano siano così finiti Anche i rotami Nah, ne ho messo Ne abbiamo 40 di rotami Ah, apposto Ma io ho sentito un gabbiano Infatti appena scappato Ci ha pappato tutto Cioè, ci ha mangiato le angurie Eh, mi sa di sì Tutte Mi sa di sì Tu Dai, Ferre, ci servivano le angurie E poi ti devo dire È colpa mia Sì Sei tu che li difendi Loro tornano qua Perché sanno che tu Tanto li difendi Non è vero Se ci fosse solo Stef Avrebbero paura Guarda, se davvero Non sono gli alieni Mi arrabbio Allora, vai Non lo so Perché poi risulta Troppo vicino a questa Ferre, metti la piattaforma Per adesso Poi giochiamo a Tetris Ok Non basterà mai Vai Non ho legna Non le faccio io Cosa devi fare? Pavimento Solo quello ci va E come si chiama? Pavimento e legno Poi si chiama Pavimento Ok Ma l'hanno fatto più cattiva Di raft È normale Comunque Aspetta, rimuoviamo questa E allontaniamo questa Dalle altre Ok Vai Eccola qui Ok, la mettiamo proprio All'estremo Esatto Più possibile E gli altri due Sono troppo vicini Tra di loro Aspetta Spostiamo leggermente questa Sì, la devi mettere Qua tipo centrale Secondo me Ok, ci provo Vediamo se basta Siamo giocando a Tetris Raga Vai Ecco Ce l'abbiamo fatta Quindi servivano Ben tre antenne Che difficoltà Distanza 1234 E stiamo consumando Anche la nostra batteria Ovviamente Quindi lo spegniamo subito E sappiamo già cosa faremo Al prossimo episodio Oh mio dio Non so cosa troviamo Ma neanche io Abbiamo fatto un disastro assoluto Per fare sta roba Perché Fa davvero schifo Sai che faremo? Ci mettiamo dei muri Copriamo tutto E così sembra bello Non lo so Sembra un bel secondo Troveremo una soluzione Dai Non mi preoccupo troppo Secondo me Una soluzioncina La troviamo Certo Comunque è fantastico Grazie a tutti